Ernia ferma a guardare insieme ai primi tattici, 7.34 minuti, inizia la seconda mezz'ora di trasmissione, Good Morning Milano ed è venerdì e quindi abbiamo come sempre la rubrica delle rubriche, così viene definita da con lei che la fa in realtà. Gli eventi della settimana a cui non andresti, giusto? Buongiorno a tutti, certo, gli eventi della settimana a cui io non andrei e chiaramente voi siete liberi di fare quello che volete, quindi andate pure. Come va, come va? Tendiamo un velo pietoso su come va questa mattina. Ok, allora iniziamo subito con gli eventi. Uno sicuramente ti piacerà tantissimo. Spedizioni veloci. Aiuto, ecco. Partito era una roba che non c'era mai niente. Uno ti piacerà sicuramente tantissimo. Dal 19 al 21 all'Allianz Mico c'è una cosa dove tu dovresti assolutamente andare. Trenini? No, cioè il Paddle Trend Expo. Ecco, ecco. Ci manca solo quello, se non ci vado più a base, non gioco più a padel. Tra l'altro, cioè, mi sono informata perché ho detto, ma magari la gente può andare lì a giocare. Forse sì, non è ben chiaro, ma comunque vengono presentate le ultime innovazioni del mercato del Paddle, in sostanza. Il biglietto costa soltanto 18 euro. Ah beh, dai. Ma non si può giocare, non ho capito? Non si capisce. Ah, non si, ma sì, che si potrà giocare. Secondo me si possono fare delle partitelle, ma non lo so. Comunque, divertitevi e andateci, visto che è la moda del momento, tutti giocate a Paddle, tutti siete dei padellari. Ecco, sì. Poi, andiamo avanti. Allora, c'è un fantastico evento. Domenica 21 gennaio, dalle 11 alle 19, al Tempio del Futuro Perduto, che è in via Luigi 9-9. Mi fa molto ridere, tra l'altro in via Luigi 9, al numero 9. C'è il market del baratto. Cioè, stiamo tornando ai tempi indietro. Vabbè, che tanto ci sono tutte le applicazioni per lo sharing, tipo Vinted, o Iep, o Weppo, una roba del genere. Quindi c'è anche la possibilità di andare e barattare qualcosa. Eh, perché non ci vuoi andare? Perché non mi piace fare questa cosa. Ah, vabbè, ok. Il Tempio del Futuro Perduto è... In via Luigi 9-9. Sì, sì. 9 o 7, dipende dall'ingresso, ma è dietro alla famiglia di vapore. Ok, sì, 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 sì. Poi c'è questo bellissimo evento che ho trovato su Facebook. Quelli che trovo su Facebook sono sempre le cose che mi piacciono di più, anche perché solitamente vuol dire che qualcuno dei miei amici di Facebook ha messo like a questa cosa, di modo che io possa vederlo. Incontrare lo sciamanesimo. Tra l'altro ho scoperto che è un evento che c'è tutte le settimane. Milano, 20-21 gennaio, seminario base. Milano poi viene fatto in una cascina vicino a Magenta. Però, vabbè, dicono Milano. Dalle 9.30 alle 18.30 c'è questo incontro immersivo per imparare lo sciamanesimo. Ti piacerebbe? Sì, sviluppo la parte spirituale di te. Ok, puoi andarci allora. Sei nel mood corretto. Bravissimo. Poi, vabbè, uno dei miei nemici numero uno per sempre. Nemici numero uno. Per sempre, ci sono poche cose nella vita che mi danno fastidio, ma questo è sicuramente uno di quelli. domenica dalle 10.00 c'è List Market. Ed è East Market Welcome 2024. Eh, primo dell'anno, sarà scoppiettante. Che bello. Cosa c'è List Market che non va bene? Dove è che viene fatto tra parentesi? Eh, giù in fondo. C'è meccanate. No, no, non più lì. Guarda, non sai mai niente. Non so mai niente. Non è più lì List Market, non è più l'ambrate. Vabbè, comunque, non mi piace perché è troppo fighetto. Ah, ecco. E poi si paga il biglietto per entrare. Come si paga il biglietto per entrare? Sì, c'è il biglietto d'ingresso. No, raga, non mi avrete mai. Niente. Niente. Ho ancora l'ultimo evento. Sì, 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 prego, prego. L'ultimo evento è una cosa che, tra l'altro, conosco persone che ci vanno e mi chiedo perché. Cioè, te lo fai da solo e la stessa roba. C'è la Walk Zone Milano al Parco Sempione. Dalle 9.30 alle 11 ti danno le tue cuffioni, cammini, intanto che fai ginnastica con i tuoi amici sconosciuti. E questa cosa, l'affitto delle cuffioni, costa ben 10 euro più 2,20 euro di prevendita. Quindi 12,20 euro. Ora, ciascuno di voi avrà delle cuffie. Può andare a camminare in qualsiasi parco e fare gli esercizi, no? Vabbè, magari conosci gente. Ma se hai le cuffie. Ma credo che nelle cuffie senti quello che dice l'istruttore, no? Sì, sì, sì. O la musica. No, 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 senti le istruzioni che ti dà l'istruttore, ma allo stesso tempo puoi sentire la musica e ti gasa. Ma a questo punto lo puoi fare con i tuoi amici. Sì, sì. Se li hai, mi viene da dire. Questa volta vengo dietro a te, mi sa. Allora, va bene, ricapitolando, c'è la fiera del Paddle, poi c'è il Market del Baratto, l'incontro dello sciamanesimo, l'East Market e la Walk Zone. Io ve li ho detti, poi voi fate quello che volete. A me non mi vedrete. Ecco, benissimo. E allora, buongiorno anche a voi. Grazie mille, Eribe, delle tue idee per il weekend, per cosa non fare in questo weekend, nei primi giorni della prossima settimana. E quindi poi noi ci rivedremo venerdì prossimo, va bene? Ok, buona giornata. E allora, buona giornata a tutti. Buona giornata anche a chi ci sta ascoltando in questo momento. Andiamo con un po' di musica. È il momento di Alfa con Bellissimissima. Grazie a tutti.